Tanto tu no che piove, la crisi che da mesi ormai cova sotto le ceneri di una maggioranza sempre più spaccata sembra pronta a esplodere ormai da un momento all'altro. Negli ultimi giorni gli arcobaleno hanno offerto uno degli spettacoli meno edificanti di sempre in consiglio comunale, tirandosi gli stracci durante la trattazione del regolamento per il trasporto dei disabili portato in aula dall'assessore forzista Nadia Gnoffo. Un regolamento finalizzato a garantire e disciplinare un servizio essenziale per le fasce più fragili, che in pochissimo tempo si è invece trasformato in un regolamento di conti tra bande, nel quale gli alleati, almeno sulla carta, se ne sono detti di tutti i colori. Nodo del contendere almeno ufficialmente la mancata richiesta da parte dell'assessore ai servizi sociali del parere alla commissione H, un parere che però sia il dirigente del settore che il segretario generale hanno ritenuto non necessario per l'approvazione del documento. La scelta dell'assessore si è però trasformata in una scintilla che ha innescato lo scontro tutto interno alla maggioranza, con i civici da un lato che ne hanno approfittato per attaccare frontalmente la Gnoffo e forse Italia dall'altro che invece ha fatto quadrato attorno alla posizione dell'assessore azzurro. In mezzo ci stanno le famiglie dei soggetti più fragili, costrette ad aspettare che la pantomima politica finisca per vedere approvato un regolamento essenziale per i loro bisogni. Al momento però l'impasse sembra totale, l'assessore Gnoffo resta ferma nelle proprie posizioni mentre i civici continuano nella loro opera di accerchiamento. In tutto questo il sindaco Lucio Greco, che finora aveva temporeggiato senza prendere alcuna posizione, nella serata di domenica rompe gli indugi e comunica che sarà lui stesso richiedere il parere della commissione per mettere fine allo scontro. Secondo il primo cittadino non è il momento di arroccarsi nelle proprie convinzioni e di manifestare azioni bellicose. Un segnale probabilmente rivolto proprio a Forza Italia che ieri ha difeso il regolamento e che pare pronta a lasciare i progreco se l'atto venisse stoppato o bocciato. Ma se l'intenzione del primo cittadino era quella di calmare gli animi, con questo gesto sembra che abbia ottenuto l'effetto opposto. La sensazione che è arrivata agli alleati è che il sindaco abbia di fatto commissariato l'assessore Gnoffo, schierandosi con l'ala civica della sua maggioranza. Una scelta che di fatto non finirà di certo senza conseguenze. Secondo rumors che arrivano dalla segreteria di Forza Italia, l'assessore Gnoffo sarebbe pronta a rassegnare le dimissioni e il partito la seguirebbe mettendo fine all'alleanza tra gli azzurri e Greco. Per il sindaco sarebbe l'ennesima defezione di un partito importante della sua maggioranza, resa ancora più pesante proprio dal recente endorsement che Greco aveva fatto nei confronti del forzista Renato Schifani, oggi presidente della regione. Con Forza Italia che passerebbe all'opposizione, Greco si ritroverebbe con una maggioranza sempre più striminzita, formata esclusivamente dall'area civica che però è ormai certo non appoggerà un suo eventuale progetto di ricandidatura e senza l'appoggio di nessun partito di governo alla regione. Greco così avrebbe scelto di garantirsi i numeri seppur risicati per sopravvivere fino alla fine del suo mandato, una strategia che a prima vista sembrerebbe suicida e che di fatto isolerebbe ancora di più un sindaco già da tempo indebolito dalle beghe della sua maggioranza. Oggi intanto è previsto un nuovo incontro per Forza Italia, se il sindaco dovesse proseguire nell'intenzione di chiedere il parere alla Commissione H e quindi di scavalcare il suo assessore, il divorzio sembra ormai inevitabile.